Sarà un lockdown molto duro quello che aspetta i tedeschi per questa Pasqua 2021, con 5 giorni di riposo totale e restrizioni previste comunque fino al 18 aprile. Niente messe, niente vacanze, nemmeno nella propria regione, divieto di assembramento e ristoranti chiusi anche all'aperto. È l'intesa raggiunta dal governo tedesco dopo una videoconferenza durata 12 ore con i governatori dei 16 lender per rafforzare le misure anti-Covid. Colpa, secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, della variante inglese, molto più letale. Ci troviamo fondamentalmente in una nuova pandemia. La variante britannica è diventata predominante. Ciò significa che abbiamo un nuovo virus, certamente dello stesso tipo, ma con proprietà molto differenti. È molto più letale, molto più contagioso e contagia per molto più tempo. La maggior parte dei negozi resterà chiusa, le messe saranno annullate nel weekend pasquale, dal primo al 5 aprile, e anche i negozi alimentari non garantiranno le aperture nei giorni di festa. Riunioni a casa, permesse fino a massimo di 5 persone provenienti da due nuclei familiari, senza contare i minori di 14 anni. Pronti a tirare il freno d'emergenza nelle zone dove l'incidenza dei contagi supererà 100 casi ogni 100.000 abitanti, con ulteriori chiusure e riduzioni dei contatti e della mobilità. I parrucchieri resteranno comunque aperti.